Eh ma ho solo 30 secondi per arrivare, cioè un attimo ragazzi non è che posso... 30 secondi per arrivare. Vai, segui le consiglie. Vai, vai, così. Cristiano non ti preoccupare, io sono un supereroe. Vai, vai, vai a tutta velocità, vai, vai, vai. Vai! Dai! Vai, 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 prendi la tutta! Vai! Scusa! Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai ancora, eh! Non sei dietro! Prendi la tutta! Che sicile! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Siamo entrati in mezzo sotto! Continua, continua, continua Mi fai stendere, saltati Dai, entra Entra dentro È entrato Io un'altra bottarella gliela darei Aumenta, aumenta Io non so quale si dirà Forse quello dirà Dai un altro colpettino, vai Non mi busco da Non mi pare Dai, vai, vai Ok Yes